Ya! Oh! Tesoro, devi stare calma, va bene? Devi stare calma. Hai capito? Se no diventi una schifezza come quella che sta di fronte a casa tua. Ma male cane fa? Tu ti devi fidare di Pascal. Perché Pascal sa sempre quello che fa. Chiara, sorridi. Rilassata, sorridi. Mi scusi, signor Pascal? Di là i vecchi mi dicono se ci può fare un po' più piano. Come ti permetti, Pascal? Stai lavorando! Ok, divertitevi. Io ho un appuntamento, ci vediamo dopo. Forse. Ma le faranno bene tutte ste barrette? Tesoro, fidati. Le cose che fanno male sono altre. Forbici. Forbici!